È Davide Nicco, esponente di Fratelli d'Italia, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte. È stato eletto all'unanimità questa mattina, lunedì 22 luglio, con 51 voti nel corso dell'insediamento della dodicesimo legislatura della regione Piemonte. Vicepresidenti sono Domenico Ravetti, nominato dal PD e Franco Graglia, Forza Italia, nominato dalla maggioranza. Sono stati votati rispettivamente... News 24, la tua nuova TV locale.